L'Assemblea dell'Associazione Giovedì Santo ha eletto un nuovo presidente. È il giovane Arcangelo Giammusso, nipote d'arte. Infatti il nonno è uno dei decani del Giovedì Santo ed ex presidente della stessa associazione. Giammusso, eredita la guida dell'Associazione Giovedì Santo da Roberto Morgana, che fu eletto nel 2014 e confermato per un secondo mandato nel 2020. Il giovane nisseno sarà collaborato per questo triennio da due vice presidenti, l'uscente Roberto Morgana ed Alessandro Barrafranca. Tesoriere dell'Associazione sarà Antonio Amico e segretario Giuseppe Polizzi. Tra i miei obiettivi e quelli dei ragazzi che compongono il mio direttivo c'è sicuramente quello di proseguire il percorso avviato dall'ex presidente Morgana. Difatti tutti quanti abbiamo voluto proprio Morgana tra il direttivo nella figura di vice presidente. Un percorso sicuramente iniziato con il miglioramento della processione il Giovedì Santo, così come il miglioramento dell'organizzazione della Via Crucis Contemplando le Vare e la creazione della sala espositiva delle Vare appunto. Quindi questo è il nostro solido punto di partenza. Sicuramente inizieremo subito con l'organizzazione della processione del 2023 e il nostro obiettivo è quello dell'innovazione, come ho già dichiarato, nel pieno rispetto della tradizione. Cercheremo di implementare novità. È chiaro che per quest'anno i tempi sono stretti, si lavorerà per il futuro, però abbiamo già idee abbastanza chiare. Altro punto fondamentale della nostra associazione, come dicevo poc'anzi, è quello della sala espositiva. Fiore all'occhiello appunto del Giovedì Santo. Il nostro obiettivo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, è quello di valorizzarlo ancora di più creando eventi che ci accompagneranno durante tutto il periodo pasquale.